Un lavoro di gruppo, un lavoro affiatato, dove il paziente viene messo al centro del progetto e lui chiaramente l'interesse è primario e tutti i professionisti insieme agli infermieri e a tutti i tecnici praticamente mirano a due obiettivi principali, lì dove si può fare prevenzione, la prevenzione, lì dove c'è da combattere una complicanza, combattere e vincere la complicanza. Ischia chiaramente non viene meno a quella che è la realtà nazionale, noi paghiamo al sud anche un'incidenza maggiore di questa patologia e paghiamo anche un'incidenza maggiore delle complicanze. La Campania è la prima regione d'Italia per amputazione maggiore, per complicanze praticamente da piede diabetico o da arteriopatia diabetica e questo chiaramente non fa piacere a noi che lavoriamo in questo senso. Noi abbiamo messo su questa realtà sull'isola con non poche difficoltà perché ad oggi il convenzionamento ci permetterebbe di seguire un tetto massimo di 1000 pazienti, nel senso che noi siamo abilitati a seguire 4000 pazienti ma con il budget, le risorse a disposizione, noi in questo momento potremmo coprire bene il controllo di 1000 pazienti. siamo già a 2500 pazienti, chiaramente abbiamo fatto in modo con la collaborazione dei medici di medicina generale e degli altri professionisti dell'isola praticamente di aiutare nell'immediato chi praticamente ha bisogno di un'assistenza maggiore e chiaramente giochiamo sulla tempistica praticamente per il controllo di tutti gli altri pazienti. Questo ci fa capire quanto sia importante questa patologia, quanto ci sia ancora da investire per cambiare anche molto spesso la mentalità rispetto, cioè l'approccio a questa patologia perché non dobbiamo nascondere che al sud e quindi anche nella nostra isola ancora si cerca di minimizzare sul diabete, forse perché prima erano in uso molto più le insuline, quindi chiaramente pungersi in continuazione praticamente era anche un deterrente ma oggi abbiamo fatto passi avanti nella terapia farmacologica, abbiamo nuovi farmaci che ci permettono un controllo serrato della patologia e anche della comparsa delle complicanze. Abbiamo fatto passi avanti nel monitoraggio domiciliare di questa patologia con praticamente i sensori che ci permettono un controllo più accurato giornaliero della glicemia. Noi dobbiamo riuscire oggi a tradurre quelle che sono i vantaggi che ci sono offerti dalla terapia farmacologica, dalla tecnologia e anche da strutture come il centro che abbiamo creato sull'isola che è ricco di tecnologie e di professionisti per ridurre al massimo l'impatto devastante di questa patologia sulla popolazione. Io cerco di sollecitare sempre la divulgazione che spesso cammina tra paziente e paziente ma io credo che la carta vincente per questa patologia come per altre sia sempre la collaborazione tra le figure professionali, tra noi medici e tutti quelli che girano attorno a questo mondo perché solo in questo modo noi possiamo migliorare al meglio l'approccio alla patologia diabetica.